Allora, proviamo a entrare in questo esercizio. Allora, io ciò che ho fatto è stato di prendere dei dati su un sistema farroviario. In realtà ero partito pensando alla metropolitana di Parigi, ma ci sono così tante linee, così tante fermate, che diventava subito complicato. E quindi, diciamo così, abbiamo preso questa mappa che ha le linee principali, metropolitane e ferroviarie. Questa è una mappa in PDF, da cui ero riuscito, non mi ricordo più dove, ma anni fa, a trovare un database corrispondente che avesse dentro queste informazioni. L'avevo importato un po' a mano, un po' con dati trovati in giro. E trovate all'interno del progetto Eclipse, c'è una cartella DB che contiene sia questo PDF che stiamo guardando, che l'SQL del database da importare. Questo database è composto da tre tabelle, che si chiamano fermata, linea e connessione. Fermata rappresenta l'elenco di tutte le fermate, quindi di fatto sarebbero i pallini, i punti sulla mappa. E se lo andiamo a vedere direttamente nel database, la tabella fermata contiene per ciascuna fermata un ID numerico, il nome della fermata stessa e delle coordinate geografiche, XY. Cioè, anzi, sono chiamate XY, in realtà sono latitudine e longitudine. Anzi, longitudine e latitudine. La longitudine è questa. E questa è la fermata, semplicemente un elenco di fermate. Queste fermate sono collegate da linee diverse, i vari colori, la linea 1, la linea 3, la linea 14, eccetera, eccetera. E che queste linee sono rappresentate dalla tabella linea. Quindi nella tabella linea noi vediamo che ogni linea ha un suo ID numerico, ha un suo nome, che è il nome disegnato sulla mappa, scritto sulla mappa. Vabbè, un colore, che è il colore che è disegnato sulla mappa, e poi dei dati, velocità e intervallo, che rappresentano la velocità media a cui viaggiano le carrozze su quella linea. E la frequenza, l'intervallo, sarebbe la frequenza in minuti tra i passaggi successivi. Qui ci sono alcune linee di cui passa una vettura ogni 5 minuti, altre ogni 10 minuti e così via. Ci sono 63 linee in totale. E poi c'è la tabella connessione, in questo database, che è una pura relazione, molti a molti, che collega una stazione di partenza, una stazione di arrivo e una linea. Quindi, dice, ad esempio, prendiamo una riga della tabella connessione, ha un suo ID, vabbè, e poi dice, ad esempio, la linea 1027, o meglio, la stazione 5 è collegata alla stazione 124 attraverso la linea 1027. Allora, 5 è la fermata, questo qui, a Cherville. 124 è la fermata, andiamo alla fermata, 124, che è questa qui, con flan fin d'oise, il mio francese è molto arrugginito, e la linea di questa connessione è la linea 1027, che corrisponde alla linea A3. Quindi questo dato nella tabella connessione corrisponde nella mappa a una linea A3, che da qualche parte collega due stazioni. La linea A3 qual è? Sembra questa rossa. Da qualche parte dovrebbero esserci le stazioni di cui i nomi abbiamo appena letto, adesso io qua non riesco a vederla a colpo d'occhio. Vabbè, no? E rappresenta un tratto, un segmento di strada, ogni connessione. Ovviamente nella tabella connessioni possiamo avere la stessa coppia di stazioni partenza-arrivo in corrisponenza a più linee diverse, perché abbiamo, questo in pratica sarebbe un multigrafo, no? Lo vediamo anche qui, ad esempio, tra queste due stazioni, questa e questa a fianco, ci sono due linee che passano. Quindi in teoria questo sarebbe un multigrafo in cui ciascun arco contiene l'informazione della linea che passa di lì. Adesso noi possiamo rappresentarlo in vari modi. Vi direi che il modo più semplice di rappresentarlo è cominciare a fare un grafo i cui vertici, un grafo semplice, quindi non un multigrafo, i cui vertici siano le stazioni e i cui archi indichino se due stazioni sono collegate o no da almeno una linea. Per il momento proviamo a strarre rispetto all'informazione sulle linee per non complicarci tutto insieme. Quindi io mi direi che c'è un vertice che rappresenta questa stazione, un vertice che rappresenta questa stazione e c'è un arco che le collega, fine. Per ora non metto nessuna informazione su quell'arco. Poi potremmo andarcela a complicare a piacere. L'informazione potrebbe essere a distanza, visto che abbiamo la geometria, c'è le coordinate geografiche, potrebbe essere il tempo di percorrenza visto che conosciamo le linee, conosciamo la frequenza delle linee, eccetera, eccetera. Però partiamo, visto che è il primo grafo che facciamo e sarà già abbastanza grande, quindi ad esempio quest'altro vertice qua che rappresenta Concord sarà un vertice in cui avremo un arco che va verso Madeleine, un arco che va verso Champs-Élysées, un arco che va verso Envalid, un altro che va verso l'Assemblea nazionale e un ultimo che va verso Twilery. Ok? E questi due archi qua in realtà vengono rappresentati da uno solo. Questo è ciò che vogliamo ottenere. Ok? Io poi ho predisposto, ma lo faremo, diciamo così, su esercizi successivi, dove è finito il mio eclipse, ho provato a predisporre un primo main in cui ci fosse un bottone per creare il grafo, quindi leggere il database e creare il grafo e poi due tendine in cui posso scegliere la stazione di partenza e la stazione di arrivo e poi mi calcoli il percorso migliore, la sequenza di stazioni da attraversare per arrivare alla stazione di partenza e alla stazione di arrivo. Questa parte qua, di interfaccia grafica, di stazione di partenza e arrivo e percorso, le vedremo la settimana prossima. Oggi concentriamoci sulla creazione del grafo. La creazione del grafo che si fa ovviamente interagendo con il database. quindi io ho già cominciato per non partire da zero con una classe DAO, metro DAO che ha un metodo readFermate che mi dà una lista di tutte le fermate, quindi di fatto mi carica in memoria la tabella fermate con tutti i campi e un metodo readLine che mi dà l'elenco di tutte le linee, ammesso che mi servano. Ok? E poi ovviamente magari dovremmo creare altri metodi se ci servono, per ora abbiamo questo punto di partenza. Per vedere che tutto funzioni, che abbiamo importato correttamente il database o un test DAO che se faccio lanciare mi dice ok, queste sono l'elenco delle fermate sotto forma di lista, questo è l'elenco delle linee sotto forma di lista. Questo è ciò che abbiamo nel progetto di partenza. Ok? Allora adesso creiamo un branch, così teniamo le cose separate e chiamiamolo creazione grafo. Così. Non mescoliamo il progetto base con il lavoro che inizieremo a fare oggi. Allora iniziamo a lavorare ovviamente dentro il model ho creato le tre classi connessione fermata a linea che hanno i campi corrispondenti al database. Allora creiamoci una prima classe model all'interno del quale lavoreremo. No? La classe model nel suo interno conterrà una variabile che rappresenta il grafo delle connessioni. Quindi noi abbiamo un'applicazione che dovrà avere un grafo che rappresenta quella rete ferroviaria. Quindi private graph grafo chiamiamolo pure così sempre all'italiana. Adesso facciamoci le solite domande che abbiamo visto prima nella definizione un grafo qual è il tipo di oggetto che contiene i vertici qual è il tipo di oggetto che contiene gli archi e qual è poi il tipo di grafo che stiamo creando. Allora questo grafo avrà come vertici le stazioni che nel nostro database si chiamano fermata. Quindi il vertice di questo grafo sono oggetti di tipo fermata. andiamo a verificare se chi ha fatto l'oggetto fermata ci ha messo dentro anche ovviamente i tre campi gli dì il nome della fermata e le coordinate che le ha messe in oggetto la latitudine ma però non lo useremo ancora quindi verifico solo che ci fosse esco dei quals definiti altrimenti li dovrei aggiungere. e poi il tipo di arco può essere un arco pesato o non pesato per ora diciamo così sempre nella versione più semplice facciamo un arco non pesato qui è un default edge anche qua lo importiamo da graph e possiamo avere un metodo pubblico del modello poi possiamo decidere se questo metodo lo chiamiamo direttamente dal costruttore o no per ora facciamolo a pezzettini public void crea grafo che ovviamente leggerà dal database le informazioni e creerà le opportune connessioni all'interno del grafo ovviamente il metodo prima cosa che fa il metodo crea grafo è creare l'oggetto grafo prima di metterci le informazioni dentro perché finora ho solo definito la variabile quindi dis.grafo uguale new crea un tipo di grafo specifico allora questo è un grafo abbiamo detto non orientato perché le linee ferroviarie sono sempre bidirezionali dove questo sempre facciamo finta che lo sia perché in realtà nella realtà se non ricordo male c'è un pezzettino qua dove non sono bidirezionali il mondo reale ci riserva sempre delle sorprese simpatiche per cui però facciamo finta che questo che questi sensi unici non esistano e allora cominciamo con un grafo non orientato anche qua vedete che c'è una soluzione simile di sensi unici vabbè però facciamo finta no stiamo facendo una prima approssimazione poi via via abbiamo tempo di complicarlo se vogliamo nelle varie direzioni che ci verranno in mente quindi per ora possiamo pensare a un grafo semplice non orientato e non pesato che se non sbaglio è un simple graph nella nostra tabella delle opzioni simple graph lo importiamo se me lo lascio importare se no vuol dire che ho sbagliato il nome simple graph che non mi risolve la tua tabella aspetta allora forse me lo sto ricordando male me lo sto ricordando male subito allora andiamo a prendere si simple graph non orientato senza set loop senza aprire senza pass allora è un problema suo e ci devo mettere come parametro default edge ah come diciamo così fermata chiamiamo tutto default edge come parametro default edge punto class ok finalmente si è accorto che c'era questa classe dentro ah pronto spazio scusate dentro jgraph t ok quindi ho creato different edge punto class quindi ho creato il grafo di questo tipo adesso quindi di fatto crea il grafo l'oggetto grafo e poi abbiamo imparato che dobbiamo prima di tutto aggiungi i vertici e poi aggiungi gli archi aggiungi i vertici è facile nel senso che i vertici che devo aggiungere al grafo sono le fermate che il DAO mi calcola già perché è già il metodo read fermate che mi calcola già una lista di fermate quindi basterà chiedere al DAO quindi creo il metodo di leggere quindi no metodo di leggere la lista delle fermate quindi avrò una lista fermata fermate DAO punto read fermate adesso qua posso ragionare un attimo e dire ma questa lista di fermate mi può servire anche più a lungo termine magari me la memorizzo dentro il modello ma magari sì magari mi può servire perché altrimenti qua ce l'ho solamente nel metodo crea grafo e poi potrebbe se mi servisse ancora dovrei di nuovo richiedere dal DAO quindi inutile chiedere due volte quindi magari questa lista fermata me la definisco qua a livello di proprietà del modello e qua semplicemente la popolo dovremo dovremo sapere se ci serve altrove in altri metodi non sappiamo ancora per adesso poco cambia ok ci gestiamo noi questa informazione e una volta che ho queste fermate che è una lista di oggetti fermata posso creare tanti vertici nel grafo quanti sono questi oggetti sono facili soprattutto se uso la classe graphs vi avevo accennato che ho un metodo che si chiama add all vertices che aggiunga di spunto grafo tutti i vertici che stanno nella lista di spunto fermate allora proviamo a testare questa roba magari nella package model mi creo un test model con un suo main che mi permette di testare questo metodo senza dover lanciare tutta l'interfaccia eccetera così lo facciamo mentre quindi possiamo creare un nuovo model new model e chiamiamo m.creagrafo per ora e dentro la classe model ci aggiungiamo una stampa di ciò che abbiamo fatto magari in fondo alla fine del metodo creagrafo grafo creato con tot vertici e tot archi numero di vertici è abbiamo detto dis.grafo punto vertex set punto size vertici vertici e numero di archi è dis.grafo punto vertex set edge set scusate edge set punto size archi quindi se lanciamo il test model ci dovrebbe stampare grafo creato con 619 vertici mi fido su il numero di fermate mi fido per un certo punto andiamo a vedere fermata si con 619 righe e 0 archi chiaro gli archi non li ho ancora messi quindi spesso la costruzione dei vertici è una cosa abbastanza semplice per per il tipo di problemi che affrontiamo noi perché sono i dati che quasi sempre abbiamo già dentro una tabella oppure saltano fuori da una query che restringe magari ha solo un certo sottoinsieme di elementi e ce la caviamo se riusciamo a avere l'elenco dei vertici in una lista ce la caviamo con un'istruzione sola se vogliamo andare a vedere più nel dettaglio tutto il grafo però sarà un po' lungo da leggere potremo anche stampare l'intero grafo e salta fuori così aperta tonda e poi c'è l'aperta quadra con l'elenco del 619 stazioni i vertici al fondo della riga abbiamo chiusa quadra cioè chiuso l'elenco delle stazioni e poi c'è il secondo elenco che è l'elenco delle connessioni degli archi che chiaramente è vuota perché non è ancora aggiunto adesso come faccio ad aggiungere gli archi e devo sapere quali sono gli archi io ho tre modi diversi almeno tre modi diversi di ragionare il primo modo se vogliamo è il più semplice funziona sempre forse in molti casi è meno efficiente degli altri però di fatto è di dire io vado a prendere una qualunque coppia di vertici e mi chiedo sono connessi o no se si aggiungo l'arco se no non lo aggiungo quindi farò un codice quindi diciamo così metodo 1 considero 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 tutti i potenziali archi cioè le coppie di vertici quindi avrò un ciclo in questo caso ciclo sui vertici che sono oggetti di tipo fermata fermata di partenza tra tutti gli archi tra tutti i vertici possibili del grafo quindi dis.grafo punto vertex set per ciascun vertice di partenza consiglio tutti i possibili vertici d'arrivo e per ciascuna coppia vertici di partenza e vertici d'arrivo mi chiedo c'è un arco devo mettere un arco tra questa vertici di partenza e questo vertici d'arrivo dimmi buona domanda tu stai dicendo il vertex set in questo momento contiene perché l'abbiamo appena creato contiene gli stessi elementi della lista fermata quindi potrei usare sia l'uno che l'altro io in questo caso io per pulizia preferisco usare il vertex set perché magari nel grafo c'è un vertice in più c'è un vertice in meno nella lista aggiunta degli elementi o no quindi qui devo essere sicuro di ciclare sui vertici in qualche modo lo sono sicuro perché tra righe sopra la lista la lista è la stessa ma in generale qui sono dal punto che sono più diciamo così protetto rispetto a eventuali modifiche della lista fermata in ogni caso l'efficienza è la stessa non c'è problema iterare su una lista iterare sull'insieme ok qui estraggo tutte le informazioni che mi servono dal grafo stesso chi è che mi dice se tra due vertici di partenza e un vertice di arrivo devo metterci un arco oppure no? il database e quindi posso immaginare un metodo del DAO a cui chiedo caro DAO sono connessi is fermate connesse is connesse chiamo il metodo con is perché mi ritornerà un booleano la convenzione normalmente di utilizzare is per i metodi che ritorna un booleano poi mescoliamo un po' di italiano un po' di inglese ma va bene is connesse la stazione di partenza e la stazione di arrivo se sono connesse allora aggiungo l'arco allora dis punto grafo add edge partenza arrivo quindi non mi resta che da definire questo metodo is connesse dentro il DAO questo metodo verrà chiamato abbiamo detto 619 per 619 volte la maggior parte delle volte mi dirà no non sono connesse alcune volte mi dirà sì e allora aggiungo l'arco occhio che se lo scrivo così in realtà sto chiedendomi anche per ogni coppia di stazioni mi sto chiedendo anche la coppia inversa perché questo perché questo è il doppio loop per vedere tutte le possibili coppie tutte le possibili combinazioni allora cosa capita all'add edge se per caso io ho già inserito l'arco AB e sto cercando di inserire l'arco BA allora nel caso in cui il grafo sia orientato lui mi aggiunge due archi diversi che sono indipendenti che sono separati l'uno dall'altro sono due oggetti distinti ma nel caso in cui c'è un grafo orientato non orientato come il mio e aggiungo voglio aggiungere un vertice che c'è già anche se è scritto il contrario cosa fa? eh leggiamo la documentazione perché a priori non lo so qui leggiamo si può anche un po' incandire crea un nuovo arco in questo grafo andando dal vertice sorgente al vertice obiettivo e ritorna all'oggetto del grafo appena creato dell'arco appena creato alcuni grafi non permettono la moltiplicità degli archi questo è un grafo semplice quindi di sicuro non è un multigrafo quindi su un multigrafo è sempre possibile aggiungere una seconda volta lo stesso arco semplicemente tra gli stessi vertici sono più archi questo è un grafo semplice quindi non lo permette e quindi in questi casi quindi quando nel nostro caso l'arco è semplice se il grafo questa è la frase che ci serve contiene già un arco dalla sorgente alla destinazione specificata allora questo metodo non cambia il grafo e ritorna null quindi vuol dire che è un'operazione se cerco di aggiungere una seconda volta un arco che c'è già fa finta di niente lo ignora ma va bene perché alla fine è il concetto di set quando aggiungi in un set una cosa che c'è già nell'edge set non modifichi la struttura dati però era meglio verificarlo che non mi desse un'eccezione o altro perché invece ci sono altri casi in cui dà delle eccezioni ad esempio se sto cercando di aggiungere un arco tra due vertici i quali non sono ancora stati inseriti nel grafo cioè i vertici devono esistere non posso avere una fermata che non è nei vertici e agganciarci un arco qui soprattutto all'inizio magari spendiamo un po' di tempo a guardare la documentazione allora vuol dire che qui non devo fare nulla di particolare non devo prima controllare se l'arco esiste solo se non esiste aggiungerlo questo è già un lavoro che fai internamente il lavoro che mi rimane è questo sconnesse che devo crearlo mi sono fatto creare il metodo dentro il DAO quindi ragioniamo sulla query cosa vuol dire? vuol dire che io ho due fermate questa e questa non lo so e mi chiedo se esiste almeno una linea che le collega perché sappiamo che attraverso la tabella connessione possono esserci più collegamenti tra queste due stazioni fatte da più linee diverse fatte in direzioni diverse quindi noi potremmo chiederci dunque cosa possiamo fare possiamo vedere io ho due fermate posso vedere se c'è una connessione tra queste due fermate quindi probabilmente mi basta interrogare la tabella connessione i dati della fermata li ho già tra cui l'ID quindi se io ho l'ID della prima stazione l'ID della seconda stazione vado a chiedermi select from connessione where dunque abbiamo detto che lì la stazione di partenza è una certa stazione and la stazione di arrivo è un'altra stazione ovviamente in questo caso non mi darà niente perché ho messo due numeri a caso proviamo a prendere due numeri che esistono davvero quindi andiamo a prendere che ne so due fermate quelle che abbiamo detto prima eh boh l'avevamo preso prima come esempio questa qui che ha tante connessioni no? Charles de Gaulle andiamo a cercarcelo nelle fermate queste sono in ordine più o meno alfabetico quindi dovrebbe essere Charles de Gaulle dove è il numerino 96 e chiediamoci se la 96 è collegata al 222 no è collegata prendiamone una a cui sia effettivamente collegata questo qua term mai sentito ma esiste quindi dalle fermate vado giù prendo il numero di questa ah non sono tutte in ordine alfabetico però questa si term term 532 effettivamente mi dice che c'è una connessione in questo caso c'è una linea sola che è la linea blu la linea 2 sarebbe che le collega in altri casi potrebbe esserci più di una linea allora questa qui mi restituirebbe più di un risultato a me in realtà non interessa tanto quali siano le linee mi interessa sapere se ce n'è almeno una oppure no quindi ad esempio quello che potrei fare magari mi interessa di più è fare un count di questa roba qua se il count mi da 1 o maggiore di 1 vuol dire che devo mettere un arco se mi da 0 vuol dire che non devo mettere l'arco e abbiamo c'è questa colonna quindi questa potrebbe essere la query che facciamo solo i d della stazione di partenza con un solo i d della stazione di arrivo vi faccio questo count e vado a vedere il risultato se è 0 ritorno falso perché non devo aggiungere l'arco non sono connesse se è 1 o maggiore di 1 invece devo aggiungere l'arco vabbè questo funziona dobbiamo semplicemente metterla dentro il metodo del DAO quindi string sql uguale sta roba qua adesso bisogna sistemarla mettere a posto gli spazi dove ci sono questi barra s barra n e mettere punti interrogativi dove ci sono i numeri delle stazioni e poi c'è una solita trafila di operazioni da fare tutte le volte che dobbiamo fare una query in database connection uguale tbconnect get connection qui il dbconnect di questo progetto ci ho già messo dentro la classe icari quindi data source la torno al DAO e poi farò crea uno statement quale connection punto prepare statement di queste sql ci devo mettere prepare statement lo devo importare lo chiamo st ci devo mettere il try catch anche la connessione dentro il try catch quindi creo la connessione preparo uno statement imposto i parametri dello statement quindi due punti interrogativi il primo punto interrogativo deve essere l'id della stazione di partenza che è un intero quindi statement punto set int primo parametro e il valore è l'id della stazione di partenza quindi c'è la partenza punto get id fermata che è un intero giusto? sì è un int e il secondo parametro il secondo punto interrogativo della query è un altro intero quindi parametro due sarà arrivo punto get id fermata quindi ho la connessione ho la query con il suo template e i suoi due parametri result set uguale statement punto execute query e poi vado a vedere il valore risultante quindi avrò ho una riga sol nel risultato perché ho un count quindi posso posizionarmi sulla prima riga sono sicuro che c'è e poi vado a vedere il valore della colonna che si chiamava c quindi int count uguale result set punto get int della colonna che si chiama c chiudiamo la connessione o meglio lo restituiamo al connection pool e restituiamo l'informazione se c è diverso da zero l'espressione booleana c diverso da zero se c è maggiore di zero è true altrimenti è false mi manca un return in quest'altro caso qua ok proviamo a vedere il nostro test model cosa ci fa sta pensando un pochino perché è vero che abbiamo il connection pool ma stiamo comunque facendo 600 per 600 360.000 query diverse di tipo count che sono velocissime ciascuna ovviamente meno di un millisecondo però 300.000 millisecondi fa comunque 300 secondi circa che sono 5 minuti però dovrebbe arrivare alla fine nel senso mentre noi parliamo pensiamo ad altro lui sta lavorando spero speriamo una cosa carina che fa id sql che ti permette a livello di database di vedere i processi in esecuzione e a volte ci sono dovrebbe farti vedere anche qui ci sono tutte le connessioni che sono state aperte dalla connection pool la maggior parte non sta facendo nulla e ce n'è una che nel momento in cui ci ho cliccato stava eseguendo questa query quindi vediamo che sta andando avanti se faccio refresh cambiano i numerini sono già la stazione di partenza 500 quindi probabilmente abbiamo quasi finito no? perché deve arrivare solo fino a 600 qualcosa ah no probabilmente sta lavorando per stazione di arrivo ho confuso partenza e arrivo ah no scusate sono io idiota perché sta esplorando i vertici ma non sappiamo in che ordine li sta esplorando non è detto che sia in ordine numerico la query dei vertici me li ha dati in ordine numerico in ordine diciamo di tabella però io li sto estraendo da un vertex set da un set e quindi l'ordine con cui li sta analizzando è quello del set che è imprevedibile ok allora questo è un metodo semplice però capiamo che potrebbe avere dei problemi di prestazione soprattutto in un grafo poco denso dove di queste 300 abbiamo detto 360.000 chiamate la maggior parte sarà no la risposta sarà no la stragrande maggior parte maggioranza perché noi noi abbiamo 600 stazioni e quale sarà il grado medio di queste stazioni beh la maggior parte ha due connessioni qualcuna ne ha tre o quattro ma posso dire che il grado medio di questo grafo il grado la media dei gradi dei vertici di questo grafo è 2, qualcosa 2,1 2,2 allora questo vuol dire che sulle 300.000 query il numero di archi effettivamente esistenti è dato il numero di vertici 600 per 2, qualcosa 1200 1500 arrotondiamo vuol dire che io sto facendo 360.000 query per avere circa 1500 true e tutti gli altri false quindi la densità è molto bassa e quindi questo metodo qui può essere migliorato possiamo cercare un metodo che ci dia un tempo di esecuzione che sia proporzionale agli archi che ci sono davvero e non quelli che ci potrebbero essere in un grafo potenzialmente molto denso e allora come possiamo fare mentre lui sta lavorando lasciamolo sotto così lo vediamo lavorare allora per dire questo metodo qua che abbiamo usato non è sbagliato è semplicemente poco adatto a un grafo che come nel nostro caso è poco denso a un' densità molto bassa e tutto sommato è un grafo grande perché se un grafo di anziché 600 vertici fossero 60 ma chi se frega ok 60 per 60 farebbe 3600 query non avremmo neanche avuto tempo di iniziare il ragionamento che il database avrebbe già finito ok quindi come sempre io voglio sempre ripetere la stessa frase che vado verso soluzioni più complicate se ne vale la pena se è necessario quindi se il grafo è piccolo anche un metodo semplice poco efficiente va bene se il grafo magari è grande o piccolo non mi interessa ma è molto denso alla fine la complessità questa è non me la posso togliere se devo effettivamente creare 300.000 vertici 300.000 archi se invece sono in un caso come questo magari mi posso chiedere se c'è un metodo migliore per creare questi vertici questi archi allora mentre lui lavora proviamo a pensare a un metodo 2 un metodo 2 potrebbe essere ma prendiamo una stazione per volta e da ciascuna stazione fermata mi chiedo ma tu quali sono le fermate vicine che hai vicine quindi data una fermata trova la lista di quelle adiacenti e poi aggiungile come archi chiaramente nel frattempo abbiamo scoperto che il numero di archi è 719 sì perché io ho detto 1500 però penso a tutte le combinazioni devo dividere per due perché il grafo non è orientato e qui non ci sono andato tanto lontano ipotizzando quella densità media ricordiamoci che l'ingegnere è quell'animale che sa già il risultato prima di fare i conti più o meno al 10-15% di errori e qui abbiamo se vogliamo essere molto pignoli l'elenco di tutte le connessioni quindi a un certo punto sappiamo che questa stazione è collegata a quest'altra quest'altra è collegata a questa e così via vabbè abbiamo tutti gli archi nel grafo molto lunga questa cosa allora dicevamo troviamo un metodo c'è un metodo per farlo più velocemente potrebbe essere un metodo in cui do un pochino più di intelligenza al DAO chiedo pretendo un pochino più di intelligenza al DAO anziché dirmi questi due c'è l'arco o no posso dire prendiamo tutte le fermate dis.grafo punto vertex set è da lì e poi per ciascuna fermata chiedo il DAO senti caro DAO mi dai la lista di fermate che sono collegate a questa e avrò una lista di fermata che sono le fermate collegate uguale dis. eh no dis DAO punto trova collegate a quella di partenza e facciamo lavorare il database chiaro che trovo collegate non mi deve fare tutte le query per ogni vertice chiedo il database trovami quelle ehm e una volta che ho la lista delle stazioni collegate aggiungo gli archi corrispondenti quindi itero su questa lista for fermata di arrivo che non è più su tutte le fermate ma è solo su quelle che il database mi ha detto che sono collegate allora aggiungo l'arco se sta roba funziona chiaramente passiamo da una complessità di 600 qua al quadrato a una complessità di solo 600 perché non abbiamo più due ciclini dati sì poi per carità 600 per 2 2,2 perché questo cicloforo interno chiaramente però il numero di deve lavorare per ciascuna cosa ma abbiamo visto che il numero di interazioni che fa questo cicloforo interno è il grado del vertice che è poco poco sopra 2 e il numero di query che faccio è il numero di vertici non è il numero di vertici al quadrato e quindi probabilmente ci guadagnerò ci guadagnerò probabilmente molto devo fare una query più furba e quindi adesso torno sul mio database che data una stazione di partenza mi dia tutte le stazioni di arrivo quali sono le stazioni di arrivo allora proviamo un attimo a tornare indietro da questa query qua che avevamo qui data una stazione di partenza e una stazione di arrivo mi dava tutte le connessioni se io provo a togliere questa condizione ulteriore sulla stazione di arrivo mi dovrebbe dare tutte le connessioni che partono dalla 96 giusto? giusto? e quindi io so che la 96 è collegata alla 15 199 550 52 237 con una query sola anche lei istantanea che interamente lavora sugli indici quindi creare questa lista di questi oggetti è facile più o meno ecco facile perché noi abbiamo l'id qui c'è scritto che devo restituire un oggetto di fermata di lì di oggetti fermati una lista di oggetti fermata quindi come fa il DAO da qua a costruire un oggetto fermata che ha solamente l'id ok trovare l'id è facile l'abbiamo già fatto però dobbiamo restituire una lista di oggetti fermati o facciamo finta di niente restituiamo una lista di interi però se poi avessi una lista di interi come faccio qui a fare l'add edge devo trovare il vertice che abbia quello come intero allora faccio di non scandire il grafo no dai per favore quindi il DAO dovrebbe ritornarmi una lista di fermata come fa il DAO a restituire una lista di fermata ci sono due modi uno facciamo una join con la tabella fermata così abbiamo tutti i campi anche di quella fermata lì e quindi restituiamo una lista di oggetti fermati che mi costruisco oppure usiamo il trucco dell'identity map che abbiamo visto la volta scorsa io posso passare al DAO una mappa che dall'ID gli fa arrivare all'oggetto fermata gli oggetti fermati li abbiamo già tutti quindi io potrei dire per aiutare il DAO a fare questo lavoro a restituirmi gli oggetti che mi servono io aiuto te e tu aiuti me io ti passo un ID map e tu mi restituisci gli oggetti anziché gli interi mi faccio un ID map una dente ID map sulle fermate private map integer fermata fermate ID map usiamo usiamo il trucco che abbiamo visto la volta scorsa così ogni volta che mi serve magari mi serve passare dall'ID all'oggetto questo è già subito un caso in cui ci serve e questo ID map quando la creo chi la crea ma guarda per non andare a complicare gli altri metodi del DAO me la posso creare subito qua ho la lista e creo la mappa che indicizza questa lista è una riga di codice for fermata f 2 punti dis punto fermate dis punto fermate ID map put f punto get ID fermata virgola f ci ha mandato la lista per ogni elemento della lista aggiungo un entry nella mappa che mappa l'ID di questa fermata all'oggetto f dimmi però la lista non è la lista di fermata la lista di allora la lista di fermata in realtà mi serve qui e non mi serve altrove io ho un ID map in realtà qui l'ho fatto sulla lista l'avrei anche potuto fare sui vertici del grafo perché questi oggetti su cui mappo f sono gli oggetti della lista ma sono anche gli oggetti del grafo sono sempre gli stessi no? le fermate che sono contenute nella lista le fermate che sono contenute nelle values della mappa le fermate che sono contenute nei vertex del grafo sono gli stessi oggetti che appartengono a tre strutture dati diverse dipende poi anche come li vado a navigare magari nella lista sono ordinate nelle values della mappa non sono ordinate quindi se mi servisse diciamo così consultare o stampare in ordine ordinato mi fa comodo continuare ad avere la lista l'importante è che non crei oggetti duplicati perché poi mi complico la vita collection diverse che contengono copie distinte di oggetti con lo stesso valore qui sto riusando sempre gli stessi oggetti ricordateci che nel new fermata l'abbiamo fatta solamente qua dentro e non ne stiamo facendo altre e vedremo che anche il nuovo metodo non ne farà allora abbiamo detto che trovo collegate per aiutarlo gli passiamo anche l'idmap fermate idmap e allora adesso possiamo provare a implementarlo posso trovarvi 5 minuti o avete lezione dovete andare allora lo implementiamo mercoledì della settimana prossima mi sono accorto che siamo arrivati al termine del tempo mercoledì prossimo continuiamo a implementare questo secondo metodo se volete provarci chiaramente se no lo facciamo la settimana prossima e poi vedremo anche come puoi visitare un grafo fatto in questo modo creando i percorsi ok allora domani non c'è laboratorio laboratorio squadre di unite mercoledì perché domani è festa lunedì prossimo non c'è lezione e invece mercoledì continuiamo su questo grazie di tutto scusate il ritardo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti